A 31 anni, è di origine peruviana ed è residente in Lombardia il giovane annegato nel pomeriggio di domenica 11 agosto a Verbania. In compagnia di un amico il sudamericano si trovava nella spiaggia del Rigoletto quando si è tuffato e non è più emerso. Erano all'incirca le 17.30. Sagra della patata! A Monte Crestesi da giovedì 22 a lunedì 26 agosto la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30 apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!